Grazie a tutti. Il professore interverrà trattando di ordine dal disordine nei sistemi complessi. Quindi ringrazio il comitato organizzatore, il direttore di divertimento e un po' voi tutti presenti qui. Volevo dire due cose intanto preliminari, magari non tutti voi lo sapete, però il professore Mantegna è uno dei padri fondatori dell'economofisica, che appunto ha iniziato indagando le correlazioni statistiche delle serie temporali dei mercati finanziari, ritrovando che questi hanno una distribuzione di Levi e vedremo che questo è una sorgente di rumore che è abbastanza diffusa non solo in economofisica ma anche in fisica. La seconda cosa è il punto di contatto tra lui e me, è stato il rumore di cui io parlerò. Abbiamo insieme lavorato, abbiamo fatto delle pubblicazioni insieme su alcuni sistemi fisici, trovando appunto degli effetti particolari dovuti al rumore. Va bene, allora detto questo io proverò a fare una carrellata veloce di alcune delle cose, dei risultati di ricerca che penso che possono essere interessanti, che rappresentano una evidenza di andamento dinamico di sistemi complessi. La novità rispetto alla differenziazione rispetto alla lezione di prima è il fatto che noi consideriamo la dinamica, in particolare il nostro gruppo studia la dinamica. Il gruppo è formato appunto da me, da professore Valenti e poi ci sono altri membri del gruppo, sono Angelo Carollo, Claudio Guarcello, Luca Magazzù e Giovanni Denaro e una studentessa russa. Questa è una fotografia un po' del gruppo. L'ambito, le tecniche teoriche che noi utilizziamo e che servono da linea guida per studiare la dinamica dei sistemi complessi e la meccanica statistica fuori dall'equilibrio. Perché fuori dall'equilibrio? Perché noi consideriamo sistemi che partono fuori dall'equilibrio e poi ne seguiamo l'evoluzione dinamica. Tutto questo è nato nell'ambito della fisica, sia la fisica statistica dei sistemi all'equilibrio che quelli fuori dall'equilibrio, quando si trattano problemi in molti corpi, le cosiddette transizioni di fase, cioè un sistema che passa da una fase solida, liquida o viceversa, dalla fase parabagnetica a ferromagnetica. In questi passaggi, se vado a studiare le proprietà statiche, sia se vado a studiare le proprietà dinamiche, si trovano delle leggi universali. E questi passaggi di stato, queste transizioni di fase, sono fenomeni che interessano un numero elevatissimo di elementi del sistema. Quindi la complessità in questo ambito nasce, questo è l'ambito in cui nasce in fisica, negli anni 70, quando si comincia appunto, e quindi Anderson è uno dei padri fondatori della criticalità dei sistemi fisici a molti corpi, ed è per questo che, diciamo appunto, questo è l'ambito di cui parlerò io. In particolare vedrò, darò qualche esempio di sistema biologico, poi uno o due esempi di sistemi fisici e poi, vabbè, le conclusioni. Mi piace iniziare con questa frase di Poincaré, torniamo indietro, cioè già Poincaré dice che la scienza è vero che è fatta da fatti, però come una casa è fatta da mattoni, ma se io metto insieme un insieme di mattoni, non costruisco certo una casa. E questo dice il fatto della interazione tra le parti. Quindi ho preso la definizione, diciamo, etimologica di complesso, che è complexus, e quindi che è il participo passato di complector, ed è l'unione di due parole, cum e pleco. Cum vuol dire insieme, pleco, intreccio, viene dal greco, quindi già nella parola è un sistema composto da più parti. Questo è da un punto di vista etimologico. Va bene, poi c'è una frase di Kadanov che dice la complessità del mondo è contrastata con la semplicità delle leggi della fisica. Lui, quando dice questo, dice per cui la fisica, la complessità, in realtà non mette in atto nuove leggi, questo però va detto, va capito, perché già in ambito fisico, studiando le transizioni di fase, escono fuori tutta una serie di nuove leggi, di nuovi andamenti, leggi universali di scala, che di per sé descrivono un sistema complesso. Quindi, quando lui dice non ci sono nuove leggi che caratterizzano la complessità, intende dire questo, in realtà le leggi ci sono, ma riguardano i sistemi a molti corpi nella fisica, quando poi vengono in qualche modo modificati come complessi. I sistemi complessi sono sistemi aperti, allora, quindi è un sistema comporto da tante parti, è un numero molto grande di parti, diciamo, parliamo di numero di avvocato, che interagiscono tra di loro in maniera non lineare, e non solo, possono interagire anche in modo non lineare, anche con l'ambiente circostante. Che cos'è l'ambiente? Appunto, io prima stabilisco che cos'è il mio sistema, questo bicchiere, oppure un atomo, una cellula, le persone che stanno in questa stanza, ma noi non siamo sistemi isolatori, noi abbiamo interazione con tutto il resto del mondo, quindi tutto il resto del mondo è l'ambiente che si può far sentire, ecco, che interagisce con il mio sistema con delle interazioni più o meno grandi, più o meno piccole, a lungo range. Pensate, quando vedete una vicenda spaziale, vedete un oggetto, e si fa il filmino, si mette un oggetto in aria, e questo oggetto fluttua, perché fluttua? Perché è già lontano dal campo gravitazionale, però sente i campi gravitazionali di tutti gli oggetti dell'universo che questi insieme danno luogo a un campo random, cioè a una fluttuazione casuale, che è la fluttuazione, diciamo, in questo caso del campo gravitazionale. Quindi le fluttuazioni sono intrinseche al mondo naturale. Ci sono esempi di elementi di sistemi complessi, e ci sono diversi livelli di investigazione sperimentale, teorica, simulativa, e comunque è importante un approccio fenomenologico e interdisciplinare. Interdisciplinare è appunto laddove io mi interfaccio con altre discipline, biofisica, econofisica, eccetera, eccetera. È fenomenologico perché a tutt'oggi non esiste una teoria completa che mi consente di descrivere in maniera dinamica un qualunque sistema a molti corpi al variare delle condizioni al contorno. Io non posso, conoscendo le equazioni, conoscendo il numero di particelle, arrivare all'evoluzione. Allora, per fare questo, alcuni fisici, ancora prima degli anni 70, anche prima, cercando di descrivere appunto le transizioni di fase, e uno di questi è Landau, hanno introdotto delle grandezze, e il professor Mantegna l'ha citato, il parametro d'ordine. Il parametro d'ordine è una grandezza fisica che esprime l'ordine in termini di simmetria del sistema, lo stato di simmetria del sistema, di un cristallo, di un qualunque, può essere liquido, per esempio l'acqua vicino allo zero gradi ha diversi stati di cristallizzazione, non solo uno, quindi passando attraverso lo zero, il centico subisce differenti transizioni di fase, noi magari ne conosciamo solo una, ma ce ne sono tante differenti, con diverse proprietà. Quindi il parametro d'ordine rappresenta, in qualche modo, la grandezza fisica macroscopica che tiene conto di tutte le interazioni microscopiche che sono tantissime. Per esempio, per un ferro magnete, un paramagnete, le cosiddette pile magnetiche, il parametro d'ordine è la magnetizzazione, per un liquido che si condensa è la densità, per un superconduttore è la funzione d'onda dello stato fondamentale superconduttivo, e così via. Di volta in volta il parametro d'ordine si individua, oppure, come nel caso dell'esempio del professor De Mantegna, era il numero di stati, il numero di possibili casi favorevoli a un certo evento, diviso per il numero, diciamo, relativo a una grandezza di scala. Il parametro d'ordine, quindi, quando è diverso da zero, mi individua il fatto che c'è una certa fase nella materia che si è, diciamo, che si è instaurata. Bene, tutto questo, in qualche modo, ne abbiamo detto. La comprensione della dinamica dei sistemi complessi, di natura fisica, eccetera, richiede necessariamente una investigazione teorica degli effetti indotti dal rumore su tale dinamica. Cosa intendiamo per rumore? Il rumore è, fisicamente, alla base, il rumore è dovuto alla temperatura, cioè, per effetto, in qualunque sistema a una certa temperatura, tutti gli elementi del sistema fluttuano in maniera, si dice, stocastica, irregolare, intorno alle loro posizioni di equilibrio. Oppure, nel gas, ci sono le particelle che misurano la pressione e la temperatura di questa stanza e la faccio variare nel tempo e un valore che mi va fluttuando. Quindi il rumore è l'interazione, con il termine rumore, che poi riesco a motorizzare come processo stocastico, è l'interazione del sistema esterno, di tutto l'ambiente esterno, sul mio sistema. E questo crea, questo, diciamo, tiene conto dal fatto che il sistema è aperto, questo condiziona la dinamica del mio sistema e siccome le interazioni sono non lineari, appunto, io posso avere delle situazioni in cui si creano degli effetti completamente non predecibili, ci sono delle piccole cause che possono avere un grande effetto oppure una grande causa che può avere un piccolo effetto. Questo è dovuto alla non linearità. E qua ci sono esempi, i vetri di spinni, i cosiddetti sistemi disordinati. Ma la cosa interessante è che il rumore, che è di per sé un segnale disordinato, cioè completamente caotico, può innescare nei sistemi fisici una struttura ordinata. E questo è quello che avviene, che è osservato normalmente, nel transizione di fase che noi conosciamo. Cioè, quando io passo da una struttura all'altra, quello che fa passare, diciamo, il sistema da una struttura all'altra, è la presenza del rumore in corrispondenza del punto critico, che mi consente l'innesco di una nuova struttura ordinata. Quindi il rumore, che è di per sé un segnale disordinato, crea ordine nella materia. E questo è, diciamo, già conosciuto dai fisici in ambito delle tensioni di fase, ma via via viene scoperto in tanti altri ambiti, e anche, diciamo, recentemente si sta sviluppando molto anche in fisica quantistica. Questo ho citato Anderson, vabbè, qua possiamo andare più avanti, e qui, vabbè, l'esempio classico della mela. Io posso vedere la mela da diversi punti di vista, è il mio sistema complesso, però ogni descrizione particolare mi darà una sua particolarità. E ogni teoria che io uso, ogni linguaggio che io uso, ha delle tecniche indipendenti. Questa è un'altra caratteristica. La complessità può essere di tre tipi, formale, algoritmica e semantica. Quella formale, che conoscete tutti, quella di Gödel, che è il teorema di indecibilità, estraendo tutte le possibili conseguenze da un corpo finito di assiomi, prima o poi si arriva a una proposizione indecidibile all'interno della teoria. Cioè, questo teorema di Gödel, io lo dico, credo, non so il solito, è di una portata grandissima, cioè introduce la impredicibilità in una disciplina come la matematica, per cui, in qualche modo, introduce il sistema aperto, che è il sistema degli assiomi. Cioè, io, dato un sistema di assiomi, posso dedurre una certa logica, a una certa frasi formale, posso costruire una logica, ma se voglio, a un certo punto vado avanti, trovo una qualche cosa che non rientra negli assiomi, ma diceva bene, allargo gli assiomi. Quindi, per poter prevedere, dovrebbe avere un numero di assiomi che è infinito. Questa è, diciamo, la complessiva, un piccolo ostacolo, diciamo. Poi c'è l'algoritmo, cioè la lunghezza dell'algoritmo, sia in termini di lunghezza spaziale che temporale, e infine, la semantica, che io non posso prevedere, un po' ne ha già accennato il professore Mantegna, non posso predire, da elementi finiti, non posso predire tutto il mio sistema, che si chiama determinismo, eccetera. Va bene. Questi sono esempi, questi sono alcuni esempi di sistemi. Io accenerò a un sistema neuronale, poi accenerò a un sistema, ecco, quello che vedete al centro è l'andamento, potrebbe essere, potrebbe essere, l'andamento di un'ergia che descrive il sistema. Un'altra definizione di sistema complesso è un sistema la cui energia associata, chiamiamola energia libera, non proprio energia potenziale, energia libera associata, ha un numero estremamente elevato di massimi e minimi. I minimi sono i punti in cui il mio sistema si va a fermare, sono gli stati stazionari del mio sistema, gli stati stabili stazionali, perché poi c'è anche gli stati stazionali instabili che corrispondono ai massimi. Io molto spesso non li conosco tutti e questo è un indizio della complessità, nel senso che io non so il mio sistema in quale di questi minimi si va a posizionare, esempio, il vetri di spin. Le tensioni di fase già le abbiamo accennate e questo è l'esempio tipico del ferromagnetismo, per cui c'è, qui sulla destra c'è la temperatura, sull'asse X, sull'asse Y c'è la magnetizzazione, vedete, T è la temperatura critica, sotto la temperatura critica questo curvone rappresenta l'insieme degli stati stabili del mio sistema, cioè fissando la temperatura, se io sono a temperatura, sotto la temperatura di Chiori, io posso avere uno stato qui o uno stato qui, vuol dire tutti gli spin degli elettroni sono, in realtà i domini ferromagnetici sono tutti orientati verso su o verso giù. Appena passo la temperatura critica e addirittura la supero sulla destra e vado, il mio sistema diventa paramagnetico e c'è un solo stato stabile tutta questa l'insieme dei punti dell'asse delle X è l'insieme degli stati stabili. Questo è un classico esempio di transizione poi, per esempio, io posso rappresentare il mio sistema come una pallina che sta sulla sommità di una collina e lo stato del sistema e lì è in equilibrio per potersi muovere da qui se non c'è nulla che muove la pallina la pallina sta lì allora un piccolo rumore piccolissimo riesce a far partire la pallina o verso destra o verso sinistra per cui il mio sistema poi rilassa lo stato stabile. Questo schema molto semplice è adottato per spiegare in termini modellistici una transizione di fase del secondo ordine in termini del parametro d'ordine naturalmente. Questo è un esempio che mi piace fare adesso entro in qualche risultato. Allora, noi abbiamo fatto qualche anno fa abbiamo indagato l'accoppiamento sessuale delle cimici e lei dice ma chi c'è in cucchia perché il mio collega dice ma la sale in pace allora ci sono le cimici queste cimici verdi per accoppiarsi si mettono sullo stesso rametto poi dalla membrana emettono un suono il suono viene trasmesso nel rametto ed è quello della femmina che fa avvicinare il maschio e avviene l'accoppiamento. Allora se il suono quindi la membrana serve per produrre il suono da un lato dall'altro serve per recepirlo lì naturalmente ci sono tutti i sensori recettori eccetera eccetera noi abbiamo ipotizzato abbiamo fatto questa domanda ma questo fatto questo accoppiamento questo trasferimento di segnale non avviene in una camera completamente insonorizzata cioè avviene nell'ambiente quindi c'è il segnale e il rumore allora abbiamo ipotizzato la possibilità che l'accoppiamento avvenisse anche quando la femmina emette un segnale che è sotto soglia perché la soglia è la soglia dei neuroni recettori dei due animaletti e abbiamo fatto un modellino una parte sperimentale è stata fatta con l'aiuto dei colleghi di Agraria che ci hanno fornito le cimici eccetera poi c'erano degli elettronici e noi abbiamo fatto anche il modellino abbiamo seguito tutto quindi abbiamo mandato un segnale sotto soglia abbiamo aggiunto il rumore il rumore che del rumore abbiamo aggiunto quello in laboratorio però in realtà il rumore del laboratorio l'abbiamo preso di intensità uguale nel range del rumore che si sente in via delle scienze dietro Agraria dove questi cimici in qualche modo stanno quindi abbiamo utilizzato dei valori di rumore realistici anche se abbiamo riprodotti in laboratorio e il risultato è questo è un po' l'apparato ecco qui vedete mettevamo una cimice che arrivava qui in una delle due delle due ramificazioni veniva inviato il segnale e il segnale veniva inviato sotto soglia prima abbiamo determinato la soglia poi un segnale sotto soglia finché poi quando è sotto soglia vabbè l'animale non si muove allora abbiamo aggiunto il rumore e abbiamo visto come il rumore aggiunto a un segnale sotto soglia fa innescare i neuroni questo è l'interno fa innescare i neuroni con questo meccanismo descritto qui guardate questa è la soglia questa tratteggiata e questa questa è la sinusoide sotto soglia a questa la sinusoide sotto i neuroni sono dei dispositivi on off se al neurone arriva una differenza di potenziale che sono tutte le cellule sono delle piccole batterie arriva una differenza di potenziale che sotto la soglia del neurone non si accende fire anche se tutti i neuroni normalmente mandano dei segnali tra di loro nel cervello continuiamo questo fa parte del rumore interno dei neuroni allora questo segnale non riesce a mettere in moto nessuna nessuna soglia però se a questo segnale gli aggiungo questo rumore rosso che è questo segnale vedete molto molto randomico molto variabile ci sono degli istanti in cui in corrispondenza dei massimi del segnale io riesco a superare la soglia e il neurone si attiva quindi si attiva qua poi si attiva qua poi si attiva qua eccetera eccetera riesco a guarda caso è più probabile che io ho una risposta del neurone in corrispondenza dei picchi quindi c'ho un rumore che diciamo con l'aiuto di una forzante già sinusoidale fa dare alla cimice o al sistema una risposta ordinata se poi vado a fare il rapporto segnale rumore in funzione dell'intensità del rumore con tutta la tecnica riesco a trovare un andamento non monotono cioè c'è un massimo c'è un valore di rumore ottimale per cui il mio sistema riesce a trasferire informazione ordinata tra un sistema e l'altro e questo fenomeno si chiama risonanza stocastica che è stato predetto come modello da un gruppo di fisici romani e lì c'è lo zampino di Giorgio Parisi che all'inizio ha dato questa idea qui sono risultati questa è la curva teorica c'è un altro fenomeno di risonanza stocastica quando io c'ho un sistema abbistabile guardate l'abbistabilità è diffusissima in fisica nei sistemi anche nei mercati finanziari si usa spesso il modello uno stato stabile vuol dire che il mercato è stazionario allora se io c'ho un bistabile che in qualche modo è sottoposto ad una forzante periodica che dovete pensare è per esempio le oscillazioni della temperatura annuali e il sistema quando si trova qui rappresenta proprio lo stato del sistema se inizialmente sono qui in questa condizione poi man mano che scorre il tempo il potenziale si va modificando ci sono delle situazioni in cui la barriera di potenziale diventa più piccola per cui un piccolo segnale di rumore può agevolare il salto del sistema da un minimo all'altro per avere lo stesso salto devo far passare mezzo periodo e ottengo quest'altro passaggio quindi in media in un periodo c'ho due salti questo fenomeno si chiama risonanza stocastica perché stocastica la risonanza meccanica la sapete tutti c'è l'esempio classico dei militari che devono adesso non si vedono più che marciano su un ponte se loro marciano ad una frequenza che è un multiplo o un sottomultipo della frequenza di oscillazione del ponte anche un piccolo segnale dal plotone fa mettere in oscillazione il ponte e si rompe qui invece quindi ci sono due frequenze che si meccano tra di loro qui invece abbiamo abbiamo pure qui due frequenze o due tempi però una è la forzante esterna che mi modifica il sistema e l'altra è il tempo che la particella il sistema impiega per andare da qui al massimo questo tempo è un tempo stocastico perché dipende dall'intensità del rumore quando questi due tempi sono uguali si ha la risonanza stocastica si è applicata in un sacco di casi eccetera bene adesso come secondo esempio biologico questo è un po' più sofisticato soprattutto da un punto di vista teorico questo è un sistema questi sono il neurone la cellula del neurone ecco e questo è lo schema dell'orecchio voi tutti sapete che noi la membrana noi abbiamo il timpano il timpano poi è collegato con la coclea la coclea che è questo oggetto qui è fatto da tutto neuroni sensoriali che sono piccoli qui e questi grandi questo oggetto fa la trasformata di Fourier di un segnale esterno cioè un segnale acustico complesso che contiene tante frequenze appena arriva mette in moto la membrana poi questa membrana diciamo è collegata a questi neuroni sensoriali quelli più piccoli sono sensibili alle alte frequenze quelli più grandi alle basse frequenze e quindi ognuno risponde per una certa frequenza poi quello che avviene dopo è che i neuroni sensoriali sono collegati ai neuroni interni e così via e la cosa poi procede verso i neuroni interni la parte interna del cervello noi ci siamo posti un problema alcuni anni fa e anche in occasione di un dottorando che gli piaceva suonare la chitarra e era proprio questo cruccio com'è che un essere umano o anche un animale riesce a distinguere i suoni consonanti dai suoni dissonanti il suono il suono consonante dissonante siamo attenti lo di consonanza e dissonanza come definizione elementare fondamentale perché poi c'è Mozart e Beethoven hanno usato le dissonanze poi c'è la cultura musicale per cui il nostro orecchio si abitua a sentire delle piacevoli dissonanze ma la dissonanza e consonanza teorica è definita come l'unione di due armoniche che stanno in un rapporto di numeri di numeri primi che sono bassi quando io faccio due terzi tre quarti cinque mezzi cioè il rapporto tra le due frequenze che compongono il segnale a queste due frequenze con questi rapporti chi suona la chitarra lo sa corrispondono degli accordi ben precisi va bene se invece il rapporto delle frequenze è 47 58 21 37 e così via il rapporto con numeri alti si ha un suono spiacevole dissonante per cui si ha in un caso una sensazione piacevole per chi ascolta con esperimenti di psicofisica nell'altro caso si ha una reazione spiacevole sensazione spiacevole questo ce l'hanno gli animali le scimmie le mucche i bambini i bambini è importante i bambini perché i bambini non hanno nessuna cultura musicale quindi questo è l'antefatto noi abbiamo questa è un po' la rete neuronale qua sono quelli sensorali e questi sono quelli interni noi abbiamo il primo che ha fatto questa definizione è stato Pitagora che ha detto che il suono consonante è un suono complesso dovuto a numeri al rapporto di frequenze piccole c'è la teoria di dopo tanti anni diciamo l'unica teoria comincia a essere la teoria di Helmholtz che dice quando i numeri sono piccoli le armoniche dei due segnali hanno dei punti in comune alcune diciamo si combinano matchano coincidono quando i numeri sono invece molto alti le armoniche dei due segnali non si combinano assolutissimamente per cui c'è un fenomeno di bit bit effect cioè questi colpi dovuto che io sento tutte queste armoniche così dal luogo ha un senso spiacevole quindi e lui si è avvicinato parecchio alla soluzione del problema c'è un'altra cosa da dire sull'orecchio se io mando due due frequenze che sono armoniche di una stessa fondamentale quindi mettiamo la frequenza fondamentale è 100 Hz io compongo un suono con 200 Hz e 300 e faccio un suono misto l'orecchio sente 100 Hz oltre a sentire quei due questa è la missing fondamentale l'orecchio riesce a percepire qual è riesce a percepire anche l'armonica fondamentale presente nei due sistemi anche se non è presente nelle due armoniche nelle due frequenze che io ho utilizzato questa è una cosa interessantissima ed è particolare un po' dell'orecchio qua vabbè questa è la teglia di Helmholtz andiamo avanti ecco allora noi abbiamo fatto un semplice sistema a tre neuroni due sensoriali e uno interno neuroniale allora vedete qui abbiamo mandato un segnale qui l'altro segnale sono i due sinusoidi che stanno in questo rapporto l'uscita da questo neurone e da questo neurone sono il neurone quando si accende manda un impulso questi questi treni di impulsi arrivano al terzo neurone e da qui il 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 neurone interno lo manda agli altri strati interni fin del cervello in più abbiamo aggiunto qua vedete c'è un segnale di rumore qui 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 perché abbiamo utilizzato sempre segnali sotto soglia per vedere quanto è importante la presenza del rumore nel trasferimento di informazioni all'interno del cervello abbiamo visto che che è importante cioè il rumore riesce a agevolare il trasferimento di informazione dall'esterno all'interno un'altra cosa siccome questi sono segnali periodici anche questi treni di impulso hanno una loro periodicità quindi nell'ambito così lo dico per qualcuno quando si usano i processi stogastici ci sono i processi marcoffiani i processi non marcoffiani i processi marcoffiani sono i processi in cui nel tempo non c'è memoria di quello che è avvenuto prima cioè il famoso esempio è il cammino del random walk il cammino dell'ubriaco se io cammino faccio un passo a destra un passo a sinistra faccio un percorso in strada e ogni passo è completamente indipendente da quello che è avvenuto prima non c'è una traiettoria non posso seguire una traiettoria cioè una traiettoria totalmente random e questo è il processo marcoffiano invece un processo non marcoffiano è che quando io sono qui ho in qualche modo una media di quello che è avvenuto prima perché in questo caso ci sono segnali deterministici e quindi questa memoria diciamo ha un effetto sulla dinamica conseguente paradossalmente da un punto di vista matematico trattare un processo stocastico marcoffiano è più facile c'è tutta una struttura matematica c'è l'equazione di Kolmogorof che è un'equazione diciamo alle derivate parziali che contiene tutto tutti gli ingredienti per discutere per trattare il processo e non c'è invece un'analoga equazione dinamica per studiare la dinamica di processi non marcoffiani per cui noi qui non potendo utilizzare le tecniche anche se sono sofisticate abbiamo usato semplicemente una legge semplicemente una legge legata alla teoria della probabilità cioè la probabilità di un effetto che è dovuto a tanti effetti e la somma delle singole probabilità naturalmente ci siamo calcolati questi singoli effetti e così via allora dico quindi qui sono le uscite dei vari neuroni diciamo saltiamo perché abbiamo il tempo comincia a stringere volevo dare i risultati abbiamo calcolato scusate abbiamo calcolato questo è l'uscita dal 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 neurone interno e una grandezza si chiama la interspike distribution come sono qual è la probabilità di trovare entro un certo intervallo degli impulsi è una distribuzione di probabilità e come vedete a sinistra per i suoi consonanti queste grandezze queste distribuzioni sono regolari naturalmente ci sono dei picchi perché ci sono delle frequenze sulla destra invece sono molto rumorose cioè c'è due distribuzioni delle interspike cioè degli intervalli tra spike tra impulsi dei neuroni e questo è irregolare e questo già è un buon risultato dà una risposta no? che il rumore nel caso delle dissonanze dà luogo a delle uscite dal neurone interno molto rumorose però c'è una grandezza che mi consente di dire che questo è più regolare e questo è meno regolare ed è l'entropia quindi ci siamo calcolati l'entropia di Shannon per queste uscite e abbiamo visto abbiamo definito una grandezza che è l'inverso dell'entropia la regolarità diciamo è l'entropia massima meno l'entropia misurata e si vede tutti i puntini blu in cui l'entropia è minima e la regolarità è massima corrispondono a note di suoni consonanti invece tutti quelli rossi sono suoni dissonanti poi abbiamo variato il rapporto e abbiamo ottenuto questo andamento in cui come varia la regolarità quindi l'opposto dell'entropia in funzione del rapporto delle frequenze questo grafico è interessante perché ha lo stesso andamento qualitativo degli esperimenti di psicofisica fatti su delle persone quindi c'è un andamento teorico che coincide con l'andamento sperimentale questo è stato un highlight siamo riusciti a piazzarlo su PRL insomma va bene adesso non so quanto tempo il tempo dovrei averlo perché 5 minuti allora questo è il tipico stato metastabile vedete è un potenziale dove il minimo se il sistema sta qui voi dovete pensare una particella che sta qui rappresenta il mio sistema quando la particella scappa poi scappa questo è un tipico esempio di fuga da uno stato metastabile quindi lo stato metastabile è presente in tutti quei sistemi sistemi chimici diffusione dei solidi cristalli laser liquidi quantistici sistemi di spin proteine eccetera per non parlare perché è importante a me diciamo è importante sapere se una particella sta qui in uno stato metastabile fatemi fare una parentesi in fisica non solo in fisica gli stati metastabili sono molto di più di quelli che noi pensiamo che ci siano cioè lo stato metastabile è uno stato in cui sta il sistema per un certo tempo finché poi non esce da quello stato se voi pensate che la gran parte dei sistemi che noi abbiamo a disposizione che noi abbiamo sotto gli occhi sono sistemi complessi che possono essere descritti con delle energie potenziali che hanno minimi e massimi ogni minimo è uno stato metastabile sarebbe lo stato stabile l'unico che è quello più profondo ma normalmente quello più profondo non riesco a conoscerlo quindi un sistema sta in quello stato per un tempo per il tempo in cui poi scavalca questa barriera se è un sistema classico deve scavalcare questa barriera se è un sistema quantistico la può pure attraversare per effetto tunnel tunneling effect in ogni caso scappa allora uno pensa vabbè se io metto il sistema qua ci metto il rumore più rumore ci metto e più questa scappa e questo è quello che la modellizzazione che ha fatto Cramers Cramers ha studiato prima le reazioni cinetiche ma si trovano in tutte le discipline questa è la formula di Cramers scusate questo è un delta mi è venuto stampare il tempo di Cramers è uguale a una certa costante per l'esponenziale dell'altezza della barriera per l'intensità del rumore quindi più alta è la barriera più improbabile che il sistema scappa più piccolo è il rumore più improbabile che il sistema scappa e viceversa più grande è il rumore scappa più facilmente questo risultato però se voi fate il grafico di questo risultato ottenete un esponenziale cioè un andamento lineare viceversa se uno va a cioè questa è una cosa che vorrei mi prevedirla per ottenere questa formula semplice bella che nota Cramers ha fatto un processo di linearizzazione del potenziale cioè lui ha trasformato questo potenziale che è un potenziale cubico in due parabole una parabola qui e una parabola qui poi ha fatto l'espansione attorno al minimo e al massimo e ha ottenuto questa formula bella quindi lui ha fatto un processo di linearizzazione ha linearizzato il processo complesso e quindi funziona se io è una formula funziona in alta energia fisica delle particelle in astrofisica dappertutto però se io voglio tener conto di tutta la non linearità del potenziale e quindi in situazioni in cui il rumore è dell'ordine della barriera del potenziale o più piccolo in realtà quello che io ottengo è un andamento non monotono in funzione ecco io ottengo questo andamento che è stato che ormai noi abbiamo visto insieme al rosario sul diodo tunnel ma poi diciamo si è visto in tanti sistemi della materia condensata in biologia eccetera cioè il tempo di vita anziché scendere esponenzialmente così come dovrebbe scendere con la formula di Kramer c'è un massimo e poi c'è un minimo addirittura in alcuni punti può avere una divergenza e questo si chiama noi sentenanzi stabiliti cioè stabilità indotta dal rumore o metastabilità indotta dal rumore per cui il rumore in realtà è come se la parcella scappa però non finisce di scappare e il rumore la mette dentro questo è un po' il meccanismo diciamo così pittorico questo fenomeno ecco quindi dipende molto dalle condizioni iniziali quindi è un sistema che ha una forte dipendenza diciamo una non ergodicità diciamo e questi sono vabbè alcuni risultati noi qui diciamo alcuni risultati teorici vabbè ok un altro fenomeno indotto dal rumore è quando questo potenziale va su e giù e in più c'è un rumore termico questo si chiama cioè la parcella può scappare è perché il potenziale balla ma se c'è il rumore può scappare diciamo ancora per un secondo motivo allora si vede che il tempo di fuga in funzione della frequenza ha un minimo cioè scappa velocemente c'è un effetto risonanza questo si chiama risonanza stocastica attivazione risonante stocastica scusate attivazione risonante stocastica bene questi due effetti che io di cui ho detto che sono importanti che io diciamo noi abbiamo li abbiamo fatti su modelli sistemi di modello tra virgolette semplici cioè poi in realtà la matematica è un po' più complicata però in realtà danno ragione di molti andamenti di sistemi complessi tenete conto che ogni qualvolta io considero un bistabile e l'energia è la mia variabile è il parametro d'ordine io già sto descrivendo un sistema complesso quindi anche se sto facendo un bistabile un sistemino così che sembra una dimensione la variabile x è una variabile macroscopica che tiene conto di tutte le variabili collettive del sistema complesso quindi già è mi dà conto dei comportamenti complessi questo è il tipico rilassamento diciamo in presenza di un'assenza di rumore e noi abbiamo diciamo visto questi effetti in in un sistema per esempio come questo che due superconduttori messi uno accanto all'altro con uno strato di isolante fanno le cosiddette l'aggiunzione Josephson in cui gli elettroni le coppie di Cooper da un superconduttore passano all'altro superconduttore per effetto tunneling in questo caso il parametro d'ordine è la funzione d'onda dello stato fondamentale superconduttivo poi qui c'è un angolo una fase la differenza di fase tra le due funzioni d'onda per chi è del liceo io so che da poco i licei hanno cominciato a introdurre la meccanica quantistica comunque la differenza di fase che è una grandezza importante tra le funzioni d'onda dei due superconduttori è anche indicativo come parametro d'ordine queste sono le equazioni e questa è l'equazione dinamica a cui si perviene un'equazione del secondo ordine alle derivate parziali nello spazio e nel tempo è abbastanza complicata non esiste questa è l'equazione di Sain-Gordon che si trova in altri ambiti della fisica tutte le volte che io vado a studiare fenomeni oscillatori faccio teorie di campo punta l'equazione di Sain-Gordon se in più ci metto dentro il rumore questa equazione si chiama equazione differenziale stocastica quindi diventa abbastanza complicata cioè non esistono soluzioni diciamo analitiche queste sono un po' alcune cose che abbiamo visto questo è il potenziale ecco vedete il sistema evolve vedete questo è un potenziale washboard cioè un potenziale oscillante periodico quando il sistema sta in un minimo corrisponde al fatto che il sistema è superconduttore quando esce dal minimo diventa passa dallo stato superconduttore allo stato resistivo per cui è una transizione di fase regolata dalla corrente esterna vedete si possono osservare dinamiche di solitoni o dinamiche di breeder breeder è una specie di onda solitaria che forma un impulso che va su e giù dentro l'aggiunzione tutto questo dipende dal rumore qui abbiamo usato vedete questa è la distribuzione di Levi che il professor Mantegna ha trovato nei mercati finanziari noi l'abbiamo usata come sorgente di rumore sembrava una elucubile teorica però in realtà sono usciti un sacco di lavori sperimentali in questi ultimi anni in cui hanno fatto vedere in cui usavano sorgenti non gaussiane perché è una sorgente non gaussiana tra parentesi per i processi stocastici non gaussiani esiste una equazione di Kolmogorov generalizzata quindi esistono gli strumenti matematici per affrontare il problema questi sono alcuni esempi tutti questi massimi qui naturalmente questo è pdf quindi questo è interessante questa è una stringa di fase che si va muovendo lungo l'aggiunzione e si vede come si innescano i solitoni e i solitoni sono responsabili del passaggio da una fase all'altra dell'aggiunzione ci sono gruppi con cui noi siamo in collaborazione a Pisa alla Scuola Normale e al CNR che stanno studiando il trasferimento di calore dovuto ai solitoni che questa è una novità assoluta per cui dico ha tutta una serie di conseguenze di fisica fondamentale ma anche di applicazioni a dispositivi nuovi questi massimi che voi vedete sono aumento di stabilità della mia aggiunzione della vita media dello stato superconduttivo in funzione dei parametri del rumore che abbiamo considerato poi si trovano anche qui delle leggi di scala ma vado un po' veloce perché siamo vabbè questi sono effetti che abbiamo visto ed infine questo l'abbiamo fatto anche abbiamo fatto la stessa analisi utilizzando come elemento nell'aggiunzione il grafene il grafene è uno strato monolayer uno strato di atomi è uno strato piano in cui caratterizzato dal fatto che c'è un solo atomo in questo strato è stato fatto con la tecnica dello sparadrap è interessante quelli che hanno avuto il primo nobile hanno pensato come facciamo a fare uno strato superficiale che contiene soltanto un atomo a livello le tecniche sono complicatissime se voi prendete un semplice nastro adesivo e lo appiccicate nella superficie poi tirate velocemente che cosa succede cosa rimane nello stato nell'adesivo rimane uno stato superficiale o di cellule o di peli cioè si riesce a fare con questa l'idea diciamo la furbata il grafene è interessante perché ha aperto da un punto di vista della fisica fondamentale contiene tutta una serie di proprietà che i normali sistemi dello stato solido non hanno vabbè qui c'è la risoluzione ok anche qui qui abbiamo visto qui qui ecco ci sono due frequenze in cui ci sono due minimi riusciamo a distinguere le giunzioni di Josephson possono essere applicate come quantum bit elementi fondamentali per quantum computing possono essere utilizzati nei normali nei computer per alzare la frequenza ma possono essere anche utilizzati come detector come rivelatori di segnali non noti e recentemente sperimentali noi l'abbiamo fatto teorico hanno fatto vedere diciamo sia teorici che sperimentali che quando io ho un segnale incognito cioè che non conosco di cui non conosco la sua natura lo mando alla giunzione Josephson e vado a studiare la statistica di fuga dallo stato superconduttore quindi l'uscita dalla parcialità dalla buca studiando questa statistica posso inferire risalire alle caratteristiche statistiche del segnale di ingresso che può essere appunto con una distribuzione statistica normalmente non gaussiana cioè la non gaussianità è molto più diffusa della gaussianità vabbè e quindi qua ci sono distribuzioni di probabilità eccetera per finire vi faccio semplicemente vedere i risultati abbiamo fatto lo stesso cioè l'analogo aumento del tempo di vita media per un sistema puramente quantistico e questo è recente questa è la miltoniana del mio sistema che serve a la risoluzione della quale delle funzioni dell'autonunzione mi serve a seguire l'evoluzione dinamica non da questa poi dall'equazione di Heisenberg però questa è l'equazione base e qui vedete questo è il mio sistema R sta per reservoir è il bagno termico e questa è la miltoniana di interazione cioè io ho il sistema poi ho l'ambiente e poi ho l'accoppiamento sistema ambiente che qui abbiamo descritto in maniera pittorica vedete questo è un sistema bistabile che è fatto appositamente asimmetrico in modo tale che questo è il sistema metastabile e tutti questi sono oscillatori armonici sono particelle che oscillano attorno al minimo e rappresentano tutti gli insiemi in un numero infinito di oscillatori armonici che rappresentano il bagno termico cioè l'environment quando si va in ambito quantistico non c'è solo la temperatura che caratterizza il rumore c'è un altro ci sono due parametri la temperatura e il coefficiente di interazione cioè io posso avere tanti oscillatori con alta temperatura ma che sono debolmente accoppiati col sistema oppure la temperatura è bassa e questi oscillatori possono essere fortemente accoppiati in entrambi i casi devo stare attento a questo quindi abbiamo studiato questo tipo di sistema e anche qui abbiamo trovato ecco vedete la curva blu mi dice che il tempo medio di fuga dallo stato metastabile per un sistema quantistico diciamo ha un andamento non monotono in funzione della in funzione sia del qui c'è l'accoppiamento che è la dissipazione oppure ha un andamento anche vedete un minimo e un massimo e poi non è un massimo cresce in funzione della temperatura questo è molto controintuitivo cioè la temperatura aumenta e il tempo di fuga aumenta pure quindi invece mi aspetto aumentando la temperatura questo scappa scappa prima quindi questi sono andamenti sicuramente controintuitivi e noi abbiamo chiamato quantum noise e nance stabiliti va bene questo dice poi questo è il cenno semplicemente a una linea di ricerca che stiamo iniziando proprio da pochissimo riguarda i fermioni di Majorana che sono delle particelle che coincidono con la propria antiparticella cioè Majorana vide l'equazione di Dirac che è un'equazione di Dirac dall'evoluzione relativistica dell'elettrone e lui disse ma guarda c'è oltre alla soluzione che ha trovato Dirac che ha trovato gli elettroni e i positroni e in cui la soluzione necessita di andare nel campo complesso esiste anche un'altra soluzione sembrava una lucubrazione teorica in cui rimangono sempre nel campo reale e la particella coincide con la sua antiparticella da alcuni anni hanno cominciato a trovare evidenze di questi fermioni di Majorana che grosso modo corrispondono se volete un fermione classico è dato dalla combina ci vogliono due fermioni di Majorana per fare un fermione classico un elettrone diciamo puro e questi hanno importanza notevolissima in fisica della materia condensata loro hanno cominciato ad osservare ancora l'osservazione diciamo come dire l'osservazione non certa e comunque molto accreditata non c'è e il trasferimento dei solifoni all'interno delle giunzioni di Josephson può aiutare indirettamente a vedere questo per cui gli sistemi che vengono studiati sono sistemi superconduttori quando io ho due superconduttori qua c'è un isolante nell'interfaccia dell'isolante un po' di superconduttività entra e questo si chiama proximity superconductivity cioè in queste situazioni di bordo si creano situazioni fisiche sperimentali favorevoli a un'osservazione dei fermioni di Majorana io vorrei chiudere con questa frase il fine della nostra conoscenza non è quello di chiudere spiegando il tutto e mi rifaccio alla prima slide del professore Mantegna con una formula ma quello di aprire il dialogo con l'universo il che significa non soltanto strappare all'universo ciò che può essere determinato in maniera chiara con precisione ed esattezza ma entrare anche in quel gioco fra chiarezza e oscurità che è appunto la complessità grazie grazie professor Spagnolo mi sono riuscito a correre davvero anche questo un intervento davvero interessante procediamo anche adesso con il dibattito c'è una prima domanda si possiamo tornare se può tornare all'equazione sul tempo di fuga da uno stato metastabbia quella esponenziale ci ha fatto vedere all'inizio io ovviamente da chimico la collego immediatamente all'equazione di Arrhenius per la velocità per la costante cinetica ovviamente la forma e il significato è lo stesso dove il rumore è il termine kt certo mi chiedevo qual era il significato in generale per altri sistemi del termine per esponenziale perché nei sistemi chimici nella teoria dello stato di transizione quel termine per esponenziale ha a che fare con l'entropia di attivazione dello stato di attivazione quindi diciamo con termini di simmetria eccetera ed in verità non è una vera propria costante ma dipende anche sulla temperatura anche se in maniera debole può dipendere dalla temperatura esattamente mi chiedevo se in altri sistemi c'era un significato analogo di questo termine per esponenziale se poteva fare un esempio commentato io volevo farle vedere un attimino da dove nasce quella formula vediamo se ci riesce ecco qua no 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 non è questa un attimino ecco qua allora la formula Cramers per arrivare alla sua formula parte da questa formula qui e questa si ottiene scrivendosi un'equazione di Fokker-Planck cioè un'equazione deterministica alle derivate parziali che dà l'evoluzione della probabilità che una particella scappi da quella buca lui scrive la Fokker-Planck backward la ford la risolve poi da lì si arriva a un'equazione differenziale del secondo ordine sul tempo medio di fuga perché il tempo medio di fuga è cos'è? è l'integrale del tempo per la probabilità è giusto mi faccio questo integrale poi faccio l'integrale di tutto quello e mi spunto un'equazione l'operatore integrale sull'equazione di Fokker-Planck e mi spunto un'equazione differenziale del secondo ordine sul tempo medio la integro due volte ed eccola qua qui c'è U questa U di X U di Y questo è tutto il potenziale questa è la formula esatta questo si chiama un problema in quadratura si fa esattamente però se io voglio il risultato esatto io qua ci devo mettere tutto il potenziale appena lei ci mette un potenziale cubico questo integrale non li sa fare ci sono tra l'altro ci sono equazioni differenziali del primo ordine non lineari che non si stanno risolvere una di queste la propose Fermi a Majorana perché stava per il modello di nucleo che aveva sotto mano e lui trovava una soluzione analitica approssimata però ecco se io metto qui tutto il potenziale e c'è G D è anche lì perché quel lì è anche il numeratore mi viene trovo andamenti inizialmente pensavamo vabbè inizialmente l'abbiamo trovato su un sistema sperimentale poi si trova in tanti io ho visto che in diversi anche nei laser eccetera nei laser no nelle giunzioni Joseph gente che ha fatto dei lavori sperimentali hanno trovato l'andamento poi lui invece cosa fa facendo la linearizzazione del potenziale qui e qui uno di questi due esponenziali va a esponente e l'integrale si fa e viene fuori la formula di Kahn quando il prefattore E funziona contiene la temperatura quindi il desiderio il rumore sono allora io posso fare delle espansioni in serie dell'esponente dipende da dove mi fermo ho delle formule approssimate chiaro? ma se io non mi fermo e lo considero tutto allora ho tutta la ottengo diciamo una cosa che non si può risommare quindi il risultato è un po' più più lungo prego ci sono altre domande? Bernardo io sono rimasto affascinato dalle cimici dalle cimici volevo capire una cosa se nel vostro esperimento mandavate solo rumore succedeva qualcosa? perché tu hai fatto vedere che c'era una portante con una sinusoidale e poi un rumore che in realtà aveva diciamo un'ampiezza che potrebbe essere anche più grossa se mandavate solo rumore no allora ti rispondo grazie della domanda allora il rumore è un segnale disordinato che contiene in teoria tutte le frequenze da zero a infinito in teoria in realtà non esiste un rumore questo è un rumore teorico quello che si usa per fare i calcoli però a un certo punto il mio sistema ha una frequenza di taglio oltre la quale non posso andare però può essere grandissimo quindi contiene tutte queste frequenze allora qual è l'idea base di questa e della risonanza stocastica in generale siccome il rumore se io faccio lo spettro di Fourier cioè se mi faccio la domanda tutte queste che ci sono nel segnale rumore ognuna quanta parte di energia trasporta il rumore trasporta energia non c'è dubbio perché è un segnale faccio il quadrato l'integrale nel tempo l'energia trasportata al segnale la domanda è questa energia com'è distribuita nelle singole frequenze questa si chiama l'analisi di Fourier mi dice come distribui quindi se c'è una frequenza che predomina quello non è più rumore quello è una allora è in grado di poter dare a tutte le frequenze del tuo spettro una parte di energia quindi se io mando il rumore ad un sistema che ha qualche frequenza particolare il rumore è in grado di trasferire proprio data la non linearità energia a quella frequenza e si va in risonanza nel caso adesso vado più in dettaglio se tu gli mandi tutte le cose di rumore la cimice non risponde io sono andato veloce lì in realtà la cimice quando trasmette non è che ha una sola frequenza io sono andato veloce ma c'è uno spettro di frequenze cioè lo spettro di frequenze del segnale emesso è complesso su quello spettro ci sono delle frequenze che predominano e poi frequenze che non predominano noi quello che abbiamo fatto è prima riprodurre il segnale emesso dalla cimice l'abbiamo riprodotto con l'appartatore e quindi con l'elettronica in modo tale che il maschio sentisse effettivamente il segnale con le frequenze predominanti però di tutte queste anche quella più predominante era comunque sotto soglia poi il rumore gli aggiungeva il suo da più quindi se gli mandi in qualunque sistema se tu gli mandi un un segnale rumoroso normalmente la risposta è diciamo picche ci sono però dei casi particolari c'è un PRL di tanti anni fa di un fatto con sistemi a soglia in cui dei colleghi spagnoli hanno dimostrato che si può sopprimere il rumore che c'è nel sistema utilizzando il rumore stesso il suppression of noise però è tutta una tecnica che si usa per la materia condensata ma anche credo si può utilizzare forse per spiegare alcuni meccanismi perché nei sistemi biologici nel cervello ci sono due tipi di rumore il rumore interno delle cellule che si mandano continuamente senza segnali più il rumore esterno e io devo tener conto di questi due rumori non ne posso non tener conto perché ci sono se io faccio un modello e dico vabbè io faccio la mia equazione certo è più facile qualunque equazione è più facile tra virgolette una qualunque equazione dinamica differenziale è più facilmente risolvibile ripeto anche se questo non è sempre vero perché ci sono equazioni anche del primo ordine non risolvibili però comunque mi agevolo la vita appena metto io se devo fare una soluzione analitica devo andare nel campo dell'analisi funzionale perché devo andare a vedere perché la mia funzione è funzione di funzioni cioè quando io scrivo un'equazione una qualunque equazione qua vabbè qua forse non c'è qua pensate a un'equazione differenziale ah possiamo prenderla quella del prendiamo quella del ecco questa 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 qua per esempio qui questa è già questa qua ecco se voi questa xi è il mio rumore il mio rumore ha infinite possibili realizzazioni cioè io faccio partire il tempo e dico come varia qual è il grafico di questa c'è un andamento irregolare poi faccio ripartire da zero e ce n'è un altro cioè infinite realizzazioni per ognuna di queste realizzazioni c'è una soluzione di chi se è un funzionale del rumore quindi l'attacco analitico è l'analisi funzionale oppure perché io devo integrare questa cosa oppure si fa un'integrazione alla ITO che mi evita di andare nell'ambito dell'analisi funzionale e faccio diciamo applicando le regole del calcolo di ITO riesco se sono in grado di riconoscere la soluzione formale teorica di questa funzione anche se incognita posso tentare una soluzione analitica del mio problema perfetto penso che con i tempi ormai siamo abbastanza stretti per cui concludiamo il dibattito ringraziamo ancora una volta il professore Spagnolo e in ogni caso grazie a tutti la professora montagna dell'inizio del dipinto grazie a tutti